Finalmente torna ad indossarla dopo mesi di assenza e sofferenza, dopo mesi passati a guardare le partite da spettatore non pagante. Gigi Castaldo si riprende la maglia numero 10 dei Lupi. L'ultima volta in campo è nitida, chiarissima nella sua mente, la traversa di Bologna, lo stupore, le lacrime e la rassegnazione. Ma oggi è diverso, è un altro Avellino, un altro momento. Il momento è di quelli difficili, come ha messo lo stesso presidente Walter Taccone, che ha chiesto a tutti di stare vicini alla squadra. A Trapani, al provinciale, in fondo bisognerà andare oltre le emergenze, gli infortuni, le difficoltà, senza pensare però che Castaldo sia il salvatore della patria. Anche se di certo la sua presenza in campo può dare maggiore sicurezza, spinta, forza, perché il gruppo torni a sfoderare quello spirito da lupi combattenti, completamente perso nel secondo tempo contro il Perugia. Bisognerà tornare a capire il valore della maglia che si ha indosso, come ha ripetuto a gran voce il capitano Angelo D'Angelo. La buona notizia è rappresentata dal ritorno di Rea, che comporrà la coppia centrale davanti a Frattali Conchiosa. A destra, Nitriaschi ha in netto vantaggio su Petricciuolo. Gironna a sinistra sostituirà l'infortunato Visconti. A centro campo, la squalifica di Arini rimette in gioco Angelo D'Angelo. Ridai torna davanti alla difesa con Gavazzi da interno sinistro, ruolo che però non gli permette davvero di esprimersi al meglio. Insigne è partito per la Sicilia ma ha svolto lavoro differenziato per tutta la settimana e dunque Bastien sarà titolare dietro Castaldo e Marcello Trotta. 150 eroici tifosi sono pronti a seguire la squadra anche questa volta, ma a differenza della vigilia di Natale scorsa, quando tornarono a casa dopo aver preso quattro schiaffi, questa volta sperano in una impresa da lupi, ovviamente.